La seconda premazione riguarda un premio istituito dalla Società Italiana di Statistica per la didattica e la statistica. E' stato istituito per i diversi livelli scolastici, quindi ci sarà un premio per contributi per un lavoro fatto nella scuola primaria e dopo ci sarà un premio per un istituto di istituzione secondaria superiore. Il premio per la scuola primaria ha visto come vincitori alcuni ragazzi, un numero in realtà molto più ampio, della stessa scuola che abbiamo appena premiato. La scuola primaria Miani di Rovigo, in effetti oltre al lavoro che abbiamo visto, ha svolto coinvolgente un numero ben più ampio, cioè tutta la scuola questa volta è coinvolta, non una sola classe. Un lavoro che è stato ritenuto meritevole di avere il premio dal titolo come vivono i ragazzi italiani di oggi la loro quotidianità e che cosa è cambiato rispetto al recente passato.